Se non mi qualifico, il video finisce su Fall Guys Ragazzi la sfida mi sembra abbastanza chiara, quindi non mi prolungherò a spiegarla Più che altro volevo dirvi che nei prossimi giorni porterò tanti altri video e sfide su Fall Guys Quindi mi raccomando, proponetemi altre sfide su questo gioco che le farò Allora, passiamo Uh, ok, primo andato Cerchiamo di non prendere il muro perché Almeno in queste fasi più easy, cioè dovremmo poterci riuscire Ok Perdere qui dovrebbe essere abbastanza complicato Perché alla fine è una questione di perdere il timing O di bloccarsi troppe volte o nella folla Il problema è quello, però poi del resto, raga, dovrebbe essere abbastanza easy Aspettate, aspettate, aspettate Ok A posto noi Primi? Primi GG per noi Ripperoni Mo si azzeca a terra Uh, passato Di botto Un pro Quanto voti Fall Guys Per ora per i giochi che ha vi direi un Oh, non di più ragazzi Decisamente non di più Quite Dashing Ok Ok, andiamo Andiamo, 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 dai Uh Passiamo Passiamo Easy No, fortù Anzi, Ciro, scusami Non lo so, raga Il trucco delle sfere non mi convince troppo A me è sempre capitato di Di sbagliarlo, esatto Deve buttarmi un po' prima Vabbè, comunque ormai sono passato Andiamo Però conviene Forse abbassarsi potrebbe essere una buona tecnica Per non sprecare troppo tempo Anche se un po' Sicuramente ti Ti dà fastidio Non lo so, serve da verificare Passiamo qui Forza centrifuga al nostro vantaggio E si vola Da buoni ingegneri quali siamo Ok Alzati Uh, uh, uh Ahia No, 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 no Ah, Ciro 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 Ma è impazzito Ciro Ma che ci piglia Ha cominciato a buggarsi Ma Ciro Ma che fai Andiamo Ciro è scandaloso, ragazzi Ciro perde l'està Trenta Andato, dai Ok, ragazzi Ok, ragazzi Questo è fattibile La cosa importante è saper si gestire un attimo su come e quando Andare contro La staviò La staviò La staviò Scusatemi Verdi oppure no Se andarle contro oppure nella sua stessa direzione In modo da non trovare male le due allineate Che è l'unico problema serio Diciamo così A parte che stavo cadendo per non guardare lo schermo Poi restare al centro non dovrebbe essere complicatissimo Attenzione Qui stavo rischiando Però far cadere 12 dovrebbe essere un po' complicatuccio, eh Io immagino quando ci saranno i tryharder anche su questo gioco Capito come sarà complicato giocare C'è un round del genere che durerà 20 minuti Ok, attenzione Mi sono fatto colpire Questa va a cadere, eh Attenzione Andiamo Ok Oh, qualificati È stato easy Più easy di quanto mi aspettassi Andiamo un po' 26 Sono eliminati 15 Ah, no, vabbè di me 18 Ok, allora ci sta Credo un altro round Probabilmente una squadra Ci diventeranno 6, 6, 6 Andiamo, dai Let's go Oh, non perdiamo il vantaggio Dai che siamo i rossi Non possiamo perdere Mica siamo i gialli Se riusciamo a gestercela bene Dobbiamo spingere la palla a destra Qua Sapete qual è il fatto, raga? Con un team coordinato Questa cosa sarebbe facilissima Il problema è che Sono sempre No L'abbiamo bloccata dove non doveva No No, 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 no Cosa? Cosa stanno facendo? Non vi sopporto Non vi sopporto No, abbiamo perso Abbiamo perso Abbiamo praticamente perso No, abbiamo perso A meno che non si devono fastidio A vicenda Oddio, 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 oddio Sulla rossa non c'è nessuno? Oddio, arrivando in ritardo? Nessuno ci ha pensato Ci hanno ignorato tutti È andata È andata È praticamente andata Vabbè, non riescono a bloccare Vabbè, non riescono a bloccare Godo Godo GG Hexagon Ok, siamo in 12 Di nuovo Ovviamente Sarà complicato, ragazzi Sono incredibilmente preoccupato Per questa cosa Ma va bene Allora dai Siamo a 10? Siamo di meno? Quindi siamo 11 Uno è uscito probabilmente Ok, dai Poi meno siamo Meglio è in realtà Dai Dai, 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 dai Vabbè, te pareva Vabbè, te pareva Vabbè Ok Cadi, cadi, cadi Vattene indietro Ok Posso stare tranquillo C'ho la mia piccola isoletta Per quanto possibile Sotto se cado Dovrei stare tranquillo Perché Tengo la piattaforma No, non è vero Non ce l'ho Non ce l'ho Non ce l'ho Non ce l'ho Ok Sto sopra, ragazzuoli C'ho il vantaggio tattico Sto sopra Devo solo decidere Quando voglio cadere Ora sulle strutture Però ce l'ho Poi provare Che sui gialli Ci sta un po' di gente Ho provato a levare Un po' di piattaforme Così I tipi non riuscivano A raggiungermi Ma che ha fatto Quel tipo No, scusami Quello come ha fatto Ok No Perché Ho perso Un vantaggio Incredibile Sto vedere Che questo è un problema Uh Ok Potrebbe essere Quella che ci interessa Potrebbe Se non sbaglio Qua Risulta easy Se non sbaglio Perché lo spazio ce l'ho C'ho tutto lo spazio del mondo Regà Non voglio guardare la chat ora Perché se lo faccio è finita Devo solo camminare Cioè Devo solo saltare Non dovrebbe essere Non dovrebbe essere un problemone No È caduto Ho vinto Cotto 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 come un riccio Appena nato GG per noi Cotto Non dovrebbe essere un problemone